La sospensione dei plateatici in centro a Bassano, seppure per alcune ore, ha creato malumori. Il nuovo sindaco parte proprio dal centro storico per dare alla città il cambio di passo promesso. Uno studente brucia i suoi libri di scuola in un parco, poteva dar vita a un incendio pericoloso. Tutto pronto per la Kermess Bassano sotto le stelle, tre mercoledì di eventi in città. 650.000 foto realizzate da Cesare Gerolimetto, donate alla città e al suo museo. Atti vandalici alla scuola media di Villa del Conte, l'appello del sindaco, ragazzi parliamone insieme. Vigili del fuoco intervenuti in via Guizze Basse per un incidente stradale tra due auto. Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, potrà essere operata in Italia. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. Apriamo il nostro telegiornale parlando dei plateatici. La sospensione dei plateatici in centro a Bassano, seppur per alcune ore e in occasione di eventi particolari, ha creato qualche malumore tra gli esercenti. Vediamo. Scene di ordinaria chiusura in pieno centro a Bassano. Potrebbe sembrare l'epoca del Covid, ma i tavolini accattastati e le sedie vuote senza avventori li abbiamo visti in un mercoledì di luglio. Effetto dell'ordinanza del comune che imponeva la sospensione della concessione di solo pubblico a uso plateatico e obbligava i locali pubblici a rimuovere tutti gli arredi e gli ingombri presenti in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà. Tra gli esercenti c'è chi non ci sta e lamenta i disagi, pur apprezzando la promozione di iniziative in centro. Ogni iniziativa da parte del comune è ben vista e accettata benissimo da tutta la popolazione, dai commercianti. Ed è fondamentale che questo avvenga, però ci deve essere un dialogo più importante, noi siamo apertissimi al dialogo ed è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi tipo di evento e per rendere Bassano competitiva con le altre grandi città del Veneto. I turisti che scelgono l'Italia lo fanno per il 68% per motivi legati all'enogastronomia e trovare i locali chiusi non aiuta di certo lo sviluppo. In più il personale di servizio ai tavoli in queste situazioni viene lasciato a casa, riducendo anche, seppure solo per un tempo ridotto, la vitalità del centro. Noi siamo come tutte le altre attività commerciali, diamo un servizio di igiene, un servizio di sicurezza, servizi primari, acqua, eccetera, che sono fondamentali per un turista che per muoversi la prima cosa che fa è vedere dove pranzare, dove fermarsi a bere, i locali, prima ancora di vedere i monumenti e i musei che sono sicuramente una tappa importante, ma sappiamo che si muovono principalmente per questi motivi. La porta resta comunque aperta al dialogo proprio nei giorni in cui si sta insediando la nuova amministrazione comunale. È fondamentale che ci sia sempre un tavolo aperto di dialogo, di dibattito sano, perché non vi è una senza l'altra. Le amministrazioni hanno bisogno delle nostre società e delle attività commerciali, e le attività commerciali hanno bisogno delle amministrazioni. E insomma, visto che è stata chiamata in causa la nuova amministrazione, noi siamo andati dal sindaco Nicola Finco, che ai nostri microfoni ci ha detto come partirà proprio dal centro storico per dare alla città il cambio di passo promesso. Rivitalizzare e valorizzare il centro storico. Non parliamo solo di mettere un freno al degrado, alla movida fracassona, parliamo di una politica lungimirante di aiuto verso gli esercenti del centro, di sostegno e di sussidi, ma soprattutto di dialogo e di idee. Certamente l'amministrazione di Nicola Finco dovrà prendere in mano le grandi incompiute cittadine, ma parallelamente bisogna dare attenzioni a chi tiene in vita il cuore pulsante della città. E questo il nuovo sindaco lo sa. Darò un mandato chiaro a tutti i miei assessori di focalizzarsi ovviamente su tutta la città, ma anche con un occhio particolare al centro della nostra città che sta vivendo un momento particolare. Cosa può fare un'amministrazione? Può creare quel terreno fertile affinché le aziende possano investire nel centro storico di Bassano del Grappa. Quindi con tutta una serie di attività, di iniziative programmate per tempo, col coinvolgimento ovviamente delle associazioni di categoria, perché ovviamente oggi il centro di Bassano è un centro appetibile, perché vediamo insomma grazie anche alla Pedemontana, arrivano numerosi diciamo turisti un po' da tutto il territorio, ma anche tantissimi cittadini che per passare una serata vogliono venire nel nostro centro città. Quindi sicuramente bisognerà fare un piano di rilancio del commercio, però poi ovviamente la parte da un punto di vista imprenditoriale, dall'adorano fare gli imprenditori e i commercianti. E in quest'ottica diventa decisivo, se non fondamentale, realizzare il progetto del marchio d'area e poi implementare il dialogo con i commercianti e gli esercenti. Quanto prima andremo ad avviare un tavolo di confronto con loro proprio per capire quali sono le criticità, perché comunque ci sono delle problematiche legate al centro cittadino, sappiamo e l'abbiamo detto più volte anche in campagna elettorale, bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e dei residenti e quella ovviamente dei commercianti. Bassano sappiamo che è una città giovane, una città viva, che insomma è un punto di riferimento per moltissimi giovani del territorio, però non può essere preda di situazioni un po' imbarazzanti, come abbiamo visto nell'ultimo fine settimana. Quindi insomma bisognerà trovare un equilibrio tra le varie esigenze. Dopodiché ovviamente una delle missioni che ci siamo presi per questo mandato amministrativo è creare il famoso marchio d'area, quindi un marchio che serve sia a promuovere il territorio ma a promuovere anche tutti gli eventi che vengono proposti in tutta l'area bassanese. Un primo passo, insomma, che Finco promette partirà dunque dal centro da anni in cerca di una svolta o per dirla in stile campagna elettorale di un cambio di passo. E dunque abbiamo visto, abbiamo sentito, occhi puntati sul centro storico per la nuova amministrazione di Nicola Finco, nuova amministrazione che tra poco renderà nota anche la nuova giunta che governerà Bassano. Restiamo in tema legato al centro storico e ascoltiamo le proposte, le dichiarazioni di Paolo Lunardi, presidente di Confcommercio Mandamento Bassano. Cosa si può fare per dare ancora più vita e ancora più lustro al centro storico? Il centro storico, come nelle altre aree del territorio, ha bisogno di una spinta assolutamente per quanto riguarda non soltanto gli eventi che noi naturalmente non lesiniamo nell'organizzare, ma ha bisogno di una spinta che dal punto di vista politico ci dia l'opportunità di fare quel salto, quel quidio di qualità che serve per poter aprire nuovi argenti e nuovi negozi che abbiamo bisogno. Noi abbiamo dei programmi, li abbiamo esposti già in campagna elettorale ai candidati sindaci, per cui il sindaco che è stato eletto sa benissimo come la pensiamo e i progetti che abbiamo presentato. Quindi possiamo supporre agevolazioni, contributi, facilitazioni, un po' di sburocratizzazione anche? Sburocratizzazione, ma allo stesso tempo incentivi che sia da parte di Confcommercio ma da parte della politica possono far sì che un aspirante esercente abbia la possibilità di dire ma sì, provo. La cronaca adesso condannato a tre anni e due mesi di reclusione con rito abbreviato Alessandro Giovanardi, il 25enne di San Zenone degli Ezzellini che nella notte di Halloween di oltre un anno e mezzo fa sotto l'effetto di alcol investì e uccise la 22enne Miriam Ciobanu che stava attraversando la strada a Pieve del Grappa il giudice inoltre ha disposto anche la revoca della patente. E adesso ci spostiamo a Romano Dezzellino per un fatto increscioso che si è verificato sul Colle di Dante un rogo di libri che avrebbe potuto anche creare conseguenze pericolose. Succedeva ai tempi dell'inquisizione che faceva bruciare i testi non graditi e non autorizzati. È successo nel 1933 nella Germania nazista che ne diede le fiamme decine di migliaia in una sola notte. Forse poco più di una bravata ma il rogo di libri e quaderni scolastici verificatosi su Colle Dante a Romano Dezzellino ha suscitato forte indignazione. Si tratta di una di quelle solite cavolate che capitano spesso a fine anno scolastico in cui la voglia di ribellione il dimenticarsi che l'anno scolastico è passato che ci sono stati dei sacrifici porta anche qualche ragazzo a dar fuoco al passato qui in senso fisico ed è qualcosa di molto grave dal punto di vista simbolico non tanto per il danno materiale in sé perché è una cosa che riguarda un metro quadrato quanto per l'atto che poteva avere conseguenze ben più gravi. La zona infatti è ricca di vegetazione e il cumulo ancora fumante è stato trovato in mattinata da un passante dietro al danno materiale sorge il tema educativo. Sapere che i propri figli quando sono al di fuori delle mura domestiche potrebbero essere anche in situazioni non di crescita ma di gang allora lì sì che va fatto qualche ragionamento soprattutto se siamo qui con ragazzi che da quanto abbiamo visto e letto da queste immagini che ci siamo fatti girare ci sono anche ragazzi di quinta superiore quindi maggiorenni quindi in grado di intendere e volere con capacità di agire e di conseguenza anche punibili a livello amministrativo e evidentemente anche penale se avessero fatto qualcosa di penalmente rilevante. Restiamo a parlare di libri a Romano Dezzelino ma questa che vedremo adesso è tutt'altra storia. Da due anni la biblioteca di Romano Dezzelino è in una nuova sede che ospita molte attività in particolare per i più piccoli anche nell'ambito del progetto nazionale Nati per leggere nuovi tavolini, sedie, scaffali e portascarpe sono ora a disposizione dei più piccoli. La nostra biblioteca offre diverse opportunità per tutte le fasce d'età in particolare il materiale che ci è stato donato è a favore dell'età 06 e proprio dei più piccoli che beneficiano di questa sala bambini. Gli arredi sono stati donati dall'associazione Brelu che si occupa di oncofertilità disciplina medica che aiuta donne e uomini che sono alle prese con un tumore e sono anche in età fertile. Il ricavato di tutti i nostri eventi va alla Fondazione Io Monzino di Milano e al centro di oncofertilità dell'azienda ospedale Università di Padova però abbiamo deciso da due anni a questa parte di devolvere una piccola parte del ricavato dei nostri eventi a qualcuno del territorio e abbiamo deciso l'anno scorso di donare qualcosa al comune di Romano. Tutto pronto per la Kermess Bassano sotto le stelle tre mercoledì di eventi in città. Bassano punta in alto e anche quest'estate torna a vedere le stelle. Confcommercio in collaborazione con Opere Estate con il patrocinio del comune accende con suggestioni e spettacoli i prossimi tre mercoledì di luglio grazie alla Kermess Bassano sotto le stelle un evento che offrirà ai cittadini e ai turisti un'esperienza avvolgente tra musica, arte e cultura nelle piazze e lungo le vie del centro storico. Il plus sicuramente intanto è il livello di qualità dell'evento degli eventi che nelle serate vengono proposti perché questo attira gente di un certo tipo gente che arriva nel nostro centro, lo conosce e quindi a modo magari di individuare quelle cose che possono essere per queste persone interessanti quindi che sia un negozio ma che sia anche il museo che sia anche una qualche parte di Bassano non conosciuta e che così sia modo di conoscere e in voglia appunto a ritornare queste persone. Dobbiamo trovare dei modi per attirare le persone nei nostri centri e dico sempre perché questo ha anche un risvolto sociale perché è chiaro che quello che riceviamo da un centro storico che quindi con una storia di un certo tipo come il nostro porta le persone a vivere proprio un'esperienza. Tre come detto i mercoledì da cerchiare in rosso il 10 luglio appuntamento con uno spettacolo itinerante che celebrerà i quattro elementi naturali attraverso creature fantastiche e poi evoluzioni aeree, giochi d'acqua e il magico fuoco. Il 17 luglio serata dedicata al jazz mentre il 24 il centro si animerà con la magia del circo e con spettacoli di giocoleria, equilibrismo e clownerie per tutte le età. I mercoledì sotto le stelle che sono inseriti anche nel programma di Opere Estate Festival che poi questo fine settimana avrà un'apertura internazionale per un altro progetto del festival che è il Minifest il progetto per i più piccoli, per gli spettatori più piccoli e per le famiglie che appunto venerdì, sabato e domenica ha questa apertura con 5 compagnie per 10 spettacoli due compagnie italiane e tre compagnie europee. Insomma, una Bassano pronta a brillare sotto le stelle o meglio, tra le stelle. E parliamo adesso di un vero e proprio tesoro di storia e memoria sono le 650.000 foto realizzate da Cesare Gerolimetto donate alla città di Bassano e ai suoi musei. La fotografia è la memoria del tempo Bassano si arricchisce di un archivio sterminato di 650.000 scatti frutto di quasi 50 anni di attività professionale di Cesare Gerolimetto il noto fotografo ha donato ai musei civici la sua produzione per metà già in forma digitale per metà su diapositive, stampe o pellicole in negativo viaggi, paesaggi, monumenti e piazze sono i soggetti più frequenti con una particolare predilezione per il Veneto e Bassano. Mi rende anche molto orgoglioso perché lo hanno accettato che è un problema averlo accettato è anche un problema perché bisogna poi gestirlo. La gestione consiste nella catalogazione secondo precisi e dettagliati criteri ministeriali e nella conservazione accurata delle coppie fisiche e digitali. Il lavoro è già stato completato grazie a un finanziamento della Rotary per circa 31.000 foto alcune delle quali visibili online sul sito del museo. La fotografia è un'arte straordinaria nata quasi 200 anni fa nel 1839 e da allora ci ha regalato delle emozioni straordinarie. Quindi la fotografia è assolutamente un'arte da conservare da preservare, da salvaguardare e da rendere fruibile a tutto il mondo. La fotografia è la nostra memoria è la nostra realtà, sono i nostri ricordi sono documenti e sono opere d'arte straordinaria di straordinaria bellezza. E su Bassano, la sua città Gerolimetto prova a suggerire un punto di vista diverso per qualche foto originale. Continuo a trovarne di nuovi ma ce ne sono molti al di là al di là della vista classica Bassano bisogna cominciare ad affrontarla da luoghi e da visioni completamente inconsuete. Quindi non posso spiegare esattamente dove e come perché anch'io ogni giorno ogni giorno cerco qualche nuova posizione da fotografare. E adesso spazio alle vostre segnalazioni la siepe che per circa 300 metri costeggia via Cunizza da Romano sul lato nord ha ormai preso possesso anche dei margini della carreggiata che unisce Bassano e Romano Dezzellino. Se ne lamentano sempre più spesso i passanti le segnalazioni sono arrivate anche a noi di Rete Veneta qualcuno ha anche alzato il telefono hanno chiamato i piani alti. In questo caso il sindaco di Romano Dezzellino Simone Bontorina ha lanciato l'appello al comune di Bassano perché faccia provvedere alla potatura in vista anche del grande afflusso previsto nel fine settimana per l'Ama Festival. La proprietà che sta realizzando i lavori di sistemazione della villa vicina fa sapere di avere in programma anche questo intervento di riduzione della siepe. e vi ricordo a proposito di segnalazioni questi sono i nostri recapiti Rete Veneta dà voce e spazio ai cittadini potete scriverci su Whatsapp o via mail a redazione chiocciola reteveneta.it Adesso ci spostiamo a nove per parlare di yoga e di beneficenza al mulino Pestasassi. Due promesse, una già mantenuta l'altra pronta ad esserlo Dopo il successo dell'edizione 2023 la rassegna di danza, yoga, arte, cultura e musica proposta da Danzarte e dall'associazione Naturalmente a Nove è infatti tornata anche quest'anno appunto come promesso La cornice suggestiva è sempre quella dell'antico mulino Pestasassi di Nove dove presente e passato si fondono assieme in un equilibrio corporeo e mentale Le iniziative legate allo yoga le tecniche di respirazione e di rilassamento hanno scandito queste prime settimane d'estate con la finalità iniziata l'anno scorso di raccogliere fondi per restaurare e valorizzare quello che è il più antico e funzionante mulino ad acqua per la produzione di impasti ceramici d'Europa La seconda promessa, quella da mantenere è legata all'evento che si terrà sabato 6 luglio al frutteto del mulino Pestasassi ovvero la recitazione del mantra della salute con Valeria Stringa insegnante di yoga e di pilates per promuovere una raccolta fondi da portare in India nel 2025 nello stato del Jarkad vicino Calcutta fondi da destinare alle famiglie rurali del posto un progetto benefico che parte dal benessere di spirito e corpo Buone notizie per Chiara Tombolato la moglie di Davide Baggio morto in Egitto in un incidente la donna potrà essere operata in Italia Potrebbe essere anticipato il rientro in Italia di Chiara Tombolato la 55enne di Cittadella rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Egitto dove ha perso la vita al marito Davide Baggio, 56enne la donna è ricoverata all'ospedale di El Gouna in Egitto le sue condizioni consentirebbero il trasferimento con un volo aereo sanitario e che potrebbe dunque riportarla a casa nei prossimi giorni per sostenere un nuovo intervento chirurgico nella tragedia che ha sconvolto la famiglia Baggio e l'intera comunità cittadellese finalmente una buona notizia Chiara Tombolato potrà rivedere i suoi figli e i familiari che nel fattempo dovrebbero raggiungere l'Egitto per effettuare tutte le pratiche burocratiche per il rientro in Italia della Salma di Davide Baggio il dramma è avvenuto sabato scorso la coppia partita da Urgada era a bordo di un'auto e stava andando a fare una gita a Luxor il pullman era pieno e quindi si sono rivolti ad un autista per il noleggio di un mezzo che poi è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale Atti vandalici alla scuola media di Villa del Conte La notte tra il sabato e la domenica scorsi qualche ragazzo è entrato nei locali della scuola media di Villa del Conte imbrattando con schiume e bombolette spray alcune stanze simboli e parole indecenti l'atto vandalico è stato reso noto dalla sindaca Antonella Argenti che ha pubblicato alcune foto ha denunciato tutti i carabinieri chiedendo anche i genitori di informarla se fossero a conoscenza di qualcosa Argenti poi ha invitato via social gli autori dell'atto vandalico di farsi avanti senza timore per parlare con lei io sono qui ragazzi cerco di capirvi ed ogni giorno lavoro per voi vi aspetto per riparare insieme un errore che alla vostra età può capitare tutto si può rimediare ha concluso Argenti Incidente stradale tra due auto a Campo San Piero Ancora un incidente lungo le strade della provincia di Padova la scorsa notte due donne sono rimaste ferite in uno schianto avvenuto a Campo San Piero in via Guizze Basse le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente una dei due mezzi a causa dell'impatto ha carambolato finendo orizzontalmente tra la strada e la pista ciclabile che la costeggia sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgorico che hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato le carreggiate in immediato l'intervento del SOM 118 del vicino ospedale che hanno subito trasferito i due feriti in pronto soccorso fortunatamente non sono in pericolo di vita al solito orario in prima serata il focus del nostro direttore Luigi Bacialli gli ospiti di questa sera saranno Pietro Behan Cesare Busetto Giuseppe Marra Giosuè Mattei Giovanni Battista Mestriner e Marco Zecchinell Tg Bassano finisce qui io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata naturalmente su Rete Veneta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!